L'incremento, L'incremento degli arrivi via mare, dal 1 gennaio al 28 agosto, quindi a oggi, di quest'anno siamo al più 103% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e questo dipende da vari fattori che sono sotto gli occhi di tutti, l'aumento delle crisi soprattutto nei paesi di provenienza. L'incremento degli arrivi via mare, dal 1 gennaio al 28 agosto, abbiamo avuto nel corso dell'anno un trend statistico che segnava un più 329% degli arrivi rispetto all'anno precedente, adesso questa curva di crescita si è abbassata, come diceva, al 103% ad oggi. Anche i numeri in termini assoluti che, ripeto, sono oggettivamente ancora abbastanza importanti e che quindi stanno sollecitando il sistema dell'accoglienza e che comunque, voglio dirlo, sta reggendo. Sul fronte migranti, Meloni dimostra ancora una volta tutta la sua inadeguatezza. L'accordo con la Tunesia è un flop, l'Europa fa spallucce e la premia fa scarica a barile sui comuni che sono in grande difficoltà. Buongiorno, ben trovati, Coffee Break è stata nella copertina di Giada Valdannini, quelli che sono i temi anche di questa giornata, con la manovra in primo piano, perché ieri c'è stato, come sapete, il primo Consiglio dei Ministri dal rientro dalle ferie, poche per i politici quest'anno, molte impellenze per il governo Meloni, che sembra aver trovato un asse con il ministro Giorgetti, o meglio un alleato con il ministro Giorgetti, perché di fatto ieri la Premier non ha fatto altro che ribadire la linea della fermezza del ministro dell'Economia, le risorse sono poche, ha detto andranno spese meglio. Soprattutto non ci sarà spazio per gli sprechi e quindi di fatto tagliando fuori una serie di richieste che sono state avanzate dai ministri competenti, proprio la presidenza del Consiglio, in vista della manovra finanziaria, come si chiamava un tempo. I soldi sono pochi, vanno trovati, di tutto questo parliamo, ma anche altri temi che sono sicuramente all'ordine del giorno, con Laura Tecce, buongiorno, ben trovata, e con Francesco Grillo, editorialista del Messaggero, ma anche direttore di Vision Think Tank, che si occupa di ambiente. Parleremo anche di clima, di ambiente, tutto questo, perché ci sono molte novità all'orizzonte. Saluto e ringrazio, collegato con noi anche Marco Granelli, che è presidente di Confartigianato. Presidente, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti. Ricordo qualche giorno fa un allarme sul lavoro lanciato, credo da voi, sulla difficoltà di affrontare discussioni sul precariato e sul salario minimo, alla luce di innovazioni che stanno sconvolgendo il mondo del lavoro, ma ne parleremo, avremo modo di parlarne con calma. Comincerei con il Consiglio dei Ministri di ieri. Da lì sono arrivate, Laura, indicazioni molto chiare dal Premier Meloni. Non c'è spazio per gli sprechi e tra gli sprechi, ovviamente, perché tutto è collegato, il dito è stato puntato chiaramente sulla misura del super bonus, oltre che sul reddito di cittadinanza. Una misura che, come ha chiarito ieri Gianni Trovati, proprio qui, sulle 24 ore, ci ha costato, ma ci costerà per i prossimi 4 anni altri soldi. Dunque, su questo, Meloni è stata abbastanza chiara. Sì, esatto. Infatti, non capisco anche... cioè, le capisco, ovviamente, perché sono all'opposizione ed era un loro cavallo di battaglia le critiche del Movimento 5 Stelle, che è stato in questi giorni, che imputano, appunto, a Meloni il fatto di dire che il super bonus sia stato uno spreco, ci siano stati un esborso incredibile di denaro pubblico, quando non è la Meloni che lo dice, appunto, lo dicono i dati. Cioè, i dati sono chiari. Purtroppo, in questo momento, non è possibile prorogare una misura come questa o come reddito di cittadinanza. Perché? Perché il governo Meloni ha ben chiaro l'obiettivo e l'obiettivo è quello della crescita, è di investire, quindi, sul lavoro, sulla riduzione del cuneo fiscale, cioè non sull'assistenzialismo, sui bonus, sulle mancette, che hanno un effetto tampone, sicuramente aiutano, ma nel breve periodo. Questo è chiaro. Ma Meloni sta cercando di fare un discorso di lungo respiro. E' stato chiaro, famiglie e imprese, precedenza famiglie, quindi taglio del cuneo fiscale. Sì, attraverso, però, famiglie e imprese, non attraverso bonus, attraverso la crescita, attraverso l'implementazione delle risorse che servono per aumentare, per favorire il lavoro e l'impresa. Le famiglie che cosa sono? Quando si dice famiglie e imprese, è collegato, perché se le persone non lavorano, la famiglia e chi siamo? Siamo noi, quindi le persone che lavorano e creano ricchezza. E' questo l'obiettivo di Meloni. Ed è un obiettivo giusto. Ovviamente di lungo termine, nel senso da perseguire nei cinque anni di legislatura. E' impossibile fare tutto in questa finanziaria, ma lo si sapeva. Francesco, oggi abbiamo visto prima il titolo del Corriere della Sera, sulla manovra, l'avviso agli alleati, ecco, grazie alla regia. L'avviso agli alleati era stato già mandato però dal Ministro Giorgetti. Si è saldato un asse col Ministro dell'Economia, in vista del fatto che i soldi, come hanno già chiarito, sono pochi e quindi ci saranno delle scelte politiche da fare, tutte le altre andranno effettivamente sfrondate. Sì, io torno un attimo sulla questione del super bonus perché è simbolica di un po' del dilemma che si troverà a dover sciogliere Giorgetti e il governo. Il super bonus è stato disegnato malissimo, su questo siamo assolutamente d'accordo. Tuttavia c'è anche un piccolo particolare che entro il giugno del 2026, quindi poco prima della scadenza della legislatura, avremo da non soltanto spendere, ma collaudare e rendere accessibili ai cittadini 198 miliardi di spesa del PNRR. Il super bonus, una misura come il super bonus, quindi parliamo di incentivi automatici che vanno direttamente alle famiglie, cosa peraltro giustissima, diciamo andare direttamente ai beneficiari finali, ha la caratteristica appunto di essere spendibile in tempi brevi. È un po' lo stesso meccanismo dell'Inflation Reduction Act negli Stati Uniti, quindi è un incentivo automatico, si spende molto velocemente senza fare gare. Quindi una cosa come il super bonus rispetto ad un'esigenza di rinnovamento complessivo del patrimonio immobiliare italiano, che è una delle grandi sfide strutturali che il governo avrà da risolvere nella legislatura, ha un senso come intuizione, il disegno è pessimo, quindi una misura come quella è una misura da... bastava anche semplicemente abbassare la percentuale del 110%, che non ha senso, al 90%, tra l'altro c'erano già questo tipo di incentivi, e la misura avrebbe avuto molto più senso. Però questo è il dilemma che si ritrova a dover sciogliere. Volevo sentire anche l'opinione di Marco Granelli su questi, dai vostri associati che segnali state raccogliendo in questi giorni in cui si discute della manovra e si fa proprio il calcolo di tanti investimenti che non saranno approvati o tanti fondi che verranno tagliati per progetti che non si potranno fare. Sì, chiaramente la prima riflessione che viene da fare è che la coperta è corta, quindi delle risorse che ci si attendeva magari per sostenere la crescita del Paese che passa chiaramente attraverso la crescita dell'impresa. Benvenga quello che è stato bozzato, cioè il ragionamento per il taglio del conio fiscale, e questo va nella direzione giusta per la diminuzione dei costi del lavoro, quindi per ridare competitività, anche per reggere meglio questa battaglia contro l'inflazione. E anche e soprattutto devo dire che il fatto di aiutare le famiglie ha un impatto positivo anche verso il nostro mondo, perché è fatto da tantissimi piccoli imprenditori dove noi diciamo c'è tutto casa e bottega, per cui è chiaro che l'aiuto alle famiglie diventa un aiuto anche alle nostre imprese, quindi su questo diamo un risconto positivo. Rispetto a quello che veniva detto, non dobbiamo dimenticare che anche l'Europa nella direttiva cosiddetta Green impone anche che tutti gli immobili abbiano un efficientamento energetico nel 2030 di due classi, quindi questo vuol dire che andando a vedere e a parlare di quello che è stato il superbonus su cui concordiamo, che c'è stata una misura che troppe volte è stata modificata, perché ricordo che sono state fatte 224 modifiche normative in 24 mesi, quindi questo ha gettato e ha dato tanta precarietà e tante incertezze rispetto anche al nostro mondo, poi chiaramente c'è stato tutto questo fenomeno di questi furbetti che hanno probabilmente utilizzato questo metodo in modo assolutamente sbagliato da perseguire, però di per sé se oggi parliamo di voler dire abbiamo un occhio di riguardo e pensiamo al clima, facciamo un investimento per il futuro rispetto anche ai nostri giovani, è chiaro che mettere in sicurezza tutti i patrimoni immobiliari, oltre a mettere in sicurezza anche il territorio, credo che debba essere una priorità che noi tutti ci dobbiamo dare, non dobbiamo dimenticare che oggi sono troppo tanti gli anni in cui non si è mai fatta manutenzione, io vengo da una regione, l'Emilia Romagna, dove si paga questo scotto, e credo che oggi le risorse importanti vadano locate nella rigenerazione territoriale, nella difesa dei territori, perché questa è una scommessa che dobbiamo vincere per dare anche una prospettiva più di sicurezza a tutte le comunità, quindi credo che da questo punto di vista si debba fare uno sforzo, un cambio di rotte che in passato forse non è mai stato fatto e credo che vada oggi realizzata nel più breve tempo possibile tutta quella politica che pone questo tipo di attenzione, anche perché aggiungo io, è proprio il territorio che lo chiede, e lo chiede anche De Caro, oggi in un'intervista alla stampa, Antonio De Caro che oltre ad essere il sindaco di Bari è anche il presidente dell'Anci, dice che il governo deve ai sindaci una spiegazione, noi spendiamo, gestiamo solo il 19% delle risorse, ma poi alla fine le gare da gestire sono molte di più e le risorse anche, e dunque i territori sono su piede di guerra, diciamo così, tra virgolette non solo per questo, ma anche, lo sapete, per la questione dei migranti, che affrontiamo però tra un attimo, dobbiamo fermarci per qualche minuto, torniamo subito, parleremo ovviamente anche di lavoro, che faremo vedere un servizio che racconta di come certi giovani rinuncino al lavoro, non solo per il reddito di cittadinanza ovviamente, ma perché preferiscono trovarlo stando in smart working a casa. A tra poco. Bentornati negli studi di Coffee Break Estate, ancora una buona giornata a tutti, stavamo parlando della manovra e delle difficoltà di allestire una legge di bilancio con le poche risorse a disposizione, soprattutto poi con le contingenze del momento, c'è un'emergenza migranti che è stata emergenza qualche anno fa, è diventata strutturale, ora è tornata un'emergenza nella sua struttura, nel senso che, come ha riferito ieri il Ministro Pianteto, abbiamo un più 103% di sbarchi, un dato che mette a fuoco un fenomeno che avevamo già ben presente nel corso di questa estate. Deve tornare a funzionare il sistema dell'accoglienza, per il momento, come ha detto il Ministro, sta reggendo, ma insomma parliamo comunque di altri costi per lo Stato. Quello che chiedo a te, Laura, è un'emergenza che torna, si risolva a livello politico, deve intervenire l'Europa, come chiedono diversi ministri a gran voce, o ci deve essere semplicemente un cambio di mentalità sul fatto di passare dall'emergenza a un sistema di accoglienza diffusa che deve diventare strutturale e far parte anche del nostro sistema economico, evidentemente? Allora, due cose, che ci sia un'emergenza ormai, come dici tu, è strutturale, quindi non parlerai neanche più di emergenza, è nell'ordine delle cose che purtroppo le immigrazioni di massa ormai sono una realtà ineluttabile quasi, cioè non dovrebbe essere ineluttabile, cioè non dovrebbe essere qualcosa a cui non vi è rimedio. La nostra Premier, ma anche i governi precedenti, hanno provato a fare degli accordi con i paesi del Nord Africa, però se poi i patti non si rispettano, perché l'Europa è sempre sul banco degli imputati? Meloni ha fatto un patto, il governo Meloni ha fatto un patto con la Tunisia, non è stato rispettato, l'Europa non ha stanziato i 100 milioni previsti, non li ha stanziati e gli erano stati promessi. Non sono stati sbloccati con il Fondo Monetario Internazionale, se forse ti chiedo, non c'è il rischio che un po' tutti i paesi che poi gestiscono i porti di partenza, da dove queste immigrazioni partono provenienti dal resto dell'Africa, diventino un modo per ricattare l'Europa, per chiedere soldi? Sì, ma non c'è purtroppo, certo, però purtroppo una soluzione alternativa non c'è, perché non si può, ovviamente non possiamo bloccare i porti italiani, quindi vanno bloccate le partenze, e come fai a bloccarle se non con accordi con i paesi della partenza? Anche perché, appunto, e torno alla tua seconda domanda, un sistema diffuso di accoglienza che incrementi anche l'economia, è chiaro che c'è bisogno di mano d'opera, ma anche di mano d'opera specializzata, perché a me non piace neanche il discorso che queste persone devono arrivare, devono essere usate come carne da macello, o come per fare solo lavori umili. Questo io lo trovo profondamente razzista, al contrario di quello che dicono a sinistra. Io trovo che debbano avere anche loro delle opportunità, come tutti, ovviamente, solo che, appunto, allora servono dei corridoi umanitari, servono delle persone che veramente abbiano voglia di integrarsi, abbiano voglia di venire qua e lavorare, venire qua e imparare delle professioni, appunto, ripeto, non solo mano d'opera dei campi, ma anche di, come dici tu, arrivare a essere perfettamente integrati. Anche perché altri paesi l'hanno fatto? Altre politiche, certo non gli sbarchi di migliaia di persone indistintamente, i sindaci sono stremati, Piantedosi parlava giustamente degli arrivi via mare, ma anche la rotta balcanica sta esplodendo. Sta riprendendo assolutamente il sindaco di Trieste, è stato contento, preferisce avere un hotspot in città piuttosto che vedere la gente che gira per l'estate. Prima di sentire Francesco Grillo su questo, chiedo al Presidente Granelli, il mercato, cioè gli artigiani, le piccole imprese che lei rappresenta, che cosa vi chiedono? C'è spazio per assorbire, mano d'opera specializzata, per esempio, per assorbire nel nostro sistema produttivo una quota di migranti, e se sì, di quali numeri stiamo parlando? Allora, noi parliamo di numeri che sono, direi, imponenti, per dire che nel 2022 abbiamo visto che mancano circa 1.400.000 lavoratori nel mondo piccole imprese, quindi quando parliamo di piccole imprese parliamo di aziende fino a 50 addetti. Per andare più nello specifico, nell'artigianato nel nostro mondo, sono circa 264.000 le figure che non siamo riusciti a trovare, con un incremento, direi, pari al 50% oggi di figure che non riusciamo a dare. Ma secondo lei per quale motivo, Granelli? Secondo lei per quale motivo? Il motivo principale va ricercato nel gap fra scuola, soprattutto, e mondo del lavoro. Oggi noi vediamo che da troppo, da tanto tempo, nella scuola non si insegnano politiche formative adeguate, per cui non si insegna sostanzialmente la cultura del lavoro. Per cui c'è questa contrapposizione fra cultura accademica e cultura, diciamo, più pratica, più tecnica. Lui oggi anche in una famiglia fa fatica, negli ultimi 30 anni il figlio, diciamo, che era l'orgoglio di casa, era quello che faceva un percorso liceale. Io ho da solamente questo dato. Oggi i giovani, dopo la terza anelia, che scelgono il liceo sono il 60%, però abbiamo il più basso numero di laureati in Europa. Quindi vuol dire che c'è un sistema formativo che non funziona, ci sono 1.700.000 giovani che non studiano, non lavorano e non fanno corsi di formazione. Quindi da parte nostra c'è necessità di avere delle competenze, come è stato accennato, competenze che per oggi, per noi, vuol dire rilanciare gli istituti tecnici, i famosi ITS, istituti professionali e vedere quali sono le richieste delle aziende nei territori. abbiamo bisogno di programmatori ICT, di programmatori di software, ma abbiamo bisogno anche di figure tradizionali, operai edili, elettricisti, idraulici, falegnami, queste sono figure che sono indispensabili. Quindi oggi, paradossalmente, c'è il lavoro, mancano le figure, però occorre soprattutto nell'ambito scuola, mondo e lavoro, una maggiore connessione. Poi riguardo il tema degli immigrati, voglio dire anche questo, l'81% dei lavoratori immigrati che arrivano sono impiegati nelle nostre aziende, quindi nelle piccole aziende. Noi siamo un fattore anche di integrazione sociale importante, per cui in tutti i paesi, in tutte le comunità, anche quelle più interne, noi diamo questa opportunità e accogliamo questa gente e oggi facciamo loro un percorso di integrazione che passa soprattutto attraverso l'apprendistato. Questo è poi uno strumento importantissimo perché consente di travasare delle competenze a questi ragazzi direttamente da titolare, titolare in azienda da noi non è il manager che sta in ufficio, è quello che oggi va direttamente a insegnare lui come si fa a fare un pezzo e come si fa a fare un prodotto. Quindi direi palestra di eccellenza e formazione di qualità e di competenza. Ecco, io vogliamo che questa misura sia sostenuta e siamo anche disponibili, l'abbiamo fatto anche in passato. Oggi i nostri più esperti, quelli che oggi hanno raggiunto l'età delle pensioni, potrebbero, abbiamo immaginato, abbiamo anche proposto e siamo a disposizione per andare anche a insegnare in questi luoghi di partenza come si fanno certe attività per portare qua questi lavoratori già formati, quindi con conoscenza della nostra lingua, delle nostre abitudini e con la competenza specifica della mansione che loro andrebbero a svolgere. Abbiamo già fatto questi esperimenti. Io mi chiedo perché questo apprendistato non si possa fare negli istituti tecnici italiani per esempio invece di scegliere un liceo se poi la percentuale di abbandono universitario è così alta ma queste sono discussioni che ci portano su un altro campo. Il discorso che faceva è giustissimo. Il nostro sistema produttivo quindi, Francesco, è perfettamente in grado di assorbire anche questi numeri imponenti di immigrazione con un più 103% di arrivi. È questa la stata quella che diceva Granelli? Sì, assolutamente. Procedere con l'apprendistato portare l'apprendistato addirittura lì dai paesi dove provengono? Sono totalmente d'accordo. La sfida è una sfida di carattere organizzativo. I numeri sono su ordini di grandezza diverse. Parliamo di un milione di vacancy gli sbarchi nei primi tre mesi dell'anno quando c'è stato un aumento che effettivamente è stato emergenziale. È stato un aumento del 300% erano 17.000 in tre anni. Quindi parliamo proprio di ordini di grandezza completamente diversi. La sfida però è organizzativa. Organizzativa va benissimo l'idea dell'apprendistato lo strumento non è un'idea dell'apprendistato degli istituti tecnici. Va anche creato un collegamento molto 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 più veloce con le strutture di prima accoglienza. Quindi in alcuni casi a noi conviene molto come diceva Laura tra l'altro che rimangano qui perché molti arrivano arrivano per andare in Germania. Noi abbiamo un gap proprio nella struttura produttiva che volevo però tornare un secondo sulla questione Europa che solleva Laura. Quando parliamo di Europa parliamo di un soggetto un po' mitologico. L'Europa sono 27 paesi il nostro Presidente del Consiglio ha portato avanti ha fatto approvare non all'unanimità una proposta di buonsenso che non è definitiva quindi ci sono delle distribuzioni automatiche chi non si assume questo onere paga 20 mila euro ha immigrato per le spese di mantenimento. Purtroppo sono Polonia e Ungheria gli alleati nel Partito dei Conservatori e Riformisti Europei ad opporsi a questa misura. Però ripeto questa non è neanche una misura definitiva l'Europa che noi dovremmo volere la Meloni vuole una discontinuità molto forte è un'Europa che decide anche a maggioranza qualificata fa Schengen serio Schengen è un'area di circolazione libera significa che ha anche una frontiera comune con un unico diritto di ingresso in quell'area e con un'unica polizia di frontiera questa deve essere l'Europa verso la quale dobbiamo andare ci saranno le elezioni politiche europee l'anno prossimo e vedremo chi sostiene veramente idee di radicale ristrutturazione dell'Europa che abbiamo allora adesso vi facciamo vedere un servizio che racconta le difficoltà del mondo del lavoro a partire dal basso e cioè quei tanti giovani che potrebbero accedere al mondo del lavoro ci ha raccontato il presidente Granelli di tante situazioni ma che non lo fanno perché per vari motivi lo vedremo preferiscono stare a casa magari cercare il lavoro in smart working e hanno difficoltà ad accettare un lavoro che non sia per l'appunto in smart ma che comporti una fatica supplementare come quella di spostarsi poi lo commenteremo con il nostro ospite che ci ha raggiunto e che sauto subito buongiorno a Gianluca Capone imprenditore e direttore di una serie di alberghi di una grande distribuzione Capone ci sente buongiorno io vi sento buongiorno a tutti allora vediamo il servizio poi ne parliamo prima ci sono state le grandi dimissioni di massa la cosiddetta Great Resignation partita dagli States e giunta fin qui con i dipendenti pronti a dimettersi dai propri impieghi a seguito della pandemia da Covid oggi il mercato del lavoro fa i conti con una nuova tendenza che riguarda stavolta i giovani intenzionati a rifiutare contratti e un posto di lavoro se le condizioni vengono giudicate non favorevoli di cosa parliamo? a Roma ad esempio un giovane su tre direbbe no alla proposta di lavoro per l'impossibilità di praticare lo smart working un approccio destinato a cambiare il mondo del lavoro presumibilmente in maniera irreversibile l'allarme arriva tra gli altri dalla Confartigianato per la quale i mestieri tradizionali che difficilmente si possono svolgere da remoto rischiano di scomparire e con essi meccanici parrucchieri autisti elettricisti intonacatori muratori e camionisti per non parlare della ristorazione dove solo ad agosto e solo nella capitale mancherebbero circa 7.000 tracuochi baristi e camerieri e in tanti si sono ritrovati a dover abbassare la saracinesca in anticipo o a prolungare le ferie per via appunto dell'assenza di personale nell'artigianato si riesce a trovare appena la metà dei profili ricercati in crisi settori strategici come la metallurgia la lavorazione del legno e l'industria del mobile ma anche il tessile l'agroalimentare e tutto l'indotto farmaceutico più in generale sul totale delle assunzioni previste la quota dei cosiddetti introvabili è passata dal 40,3% del luglio del 2022 a quasi il 48% dello stesso mese di questo anno ma la palma d'oro dei settori negletti l'avrebbero i mestieri operai metalmeccanici tecnici di edilizia e di manutenzione operai specializzati nelle industrie della carta i giovani questo genere di attività pare non lo vogliano più praticare quel che è certo è che dalle dimissioni di massa al no dei ragazzi ad alcuni mestieri si coglie una tendenza con la quale occorrerà in tempi celeri fare i conti in nodo comune il tempo cui questo sì è chiaro dalla pandemia in poi si è data una diversa priorità allora la questione è questa è stata la pandemia a portare molti giovani a rimanere su un divano e cercare una comodità un lavoro comodo dal divano oppure è semplicemente l'universo social che ha in qualche modo convinto molti giovani che si possono fare più soldi con meno fatica stando davanti a un computer con i click dei video questo è un tema che abbiamo già affrontato lo chiedo a Gianluca Capone perché come direttore di tante strutture alberghiere ha lo so perché ne abbiamo parlato difficoltà a trovare come tanti altri mano d'opera specializzata per quest'estate allora le chiedo intanto come è andata quest'estate nelle strutture di quali figure avete bisogno e secondo lei per quale motivo non riuscite a trovarle buongiorno di nuovo e grazie per avermi invitato alla vostra bellissima trasmissione allora il problema sussiste anche nel settore alberghiero effettivamente consideri che noi occupiamo circa 130.000 persone nel nostro settore parlo di ristorazione alberghi e quest'anno addirittura più dell'anno scorso si è vista proprio la mancanza e la carenza di giovani che volessero approdare a questo settore i motivi secondo me sono rimandabili sicuramente alla pandemia che ha cambiato proprio il concetto di vita soprattutto dei giovani e poi anche un po' il reddito di cittadinanza questi due fattori hanno sicuramente portato i giovani a pensare in modo diverso allora lei ha nominato mettiamo un punto qui lei ha nominato il reddito di cittadinanza questo è un altro problema ieri ci sono stati dei ci sono stati nuovi cortei a Palermo a Napoli a Napoli con qualche tensione in più secondo lei come ha inciso questo fattore realmente qualcuno ha preferito prendere il reddito di cittadinanza piuttosto che fare un lavoro stagionale per esempio direi proprio di sì considerando che comunque il lavoro del settore berghiero ristorativo è ben pagato quindi qui poi si apre un altro tema che è quello dello stipendio del salario minimo ma ad ogni modo vi posso garantire che un ragazzo che entra alla reception di un albergo a fare il cameriere in un albergo specializzato o non specializzato la paga minima base sono 1450 1500 nette al mese che sono superiori ai 9 euro che si parla di reddito base detto questo manca proprio la professionalità e la voglia di lavorare il settore berghiero oltretutto è un settore bellissimo perché si è in contatto continuo con le persone con i clienti con i turisti quindi si ha modo di approcciare un lavoro innovativo e diverso però manca proprio la cultura anche nel settore del turismo parliamo di scuole alberghiere io ho fatto la scuola alberghiere ho fatto la prima laurea in economia del turismo parliamo degli anni 80-90 dove il turismo non era neanche considerato tra le categorie che potevano offrire lavoro o una carriera lavorativa e ci ricordiamo lo sviluppo proprio del turismo mondiale è partito dagli anni 80 con la possibilità di accedere a tutti e raggiungere paesi extraeuropei o mondiali virtù dell'abbassamento dei costi del trasporto e quindi il settore alberghiero è sempre stato considerato come una pecora nera la stessa mia mamma mi diceva ma tu hai scelto di fare la scuola alberghiera che lavoro troverai nella vita farei camere della vita quindi mancava all'epoca una cultura propedeutica al nostro settore che invece è uno dei settori più belli ricordo che il turismo produce il 6% netto di pil contribuisce al 6% sul pil italiano ma l'indotto che genera è il 13 14 15% quindi noi del turismo muoviamo il 12 13% del nostro prodotto interno l'ordo italiano e l'occupazione rappresenta il 6% di tutta l'occupazione nazionale quindi è un settore dove veramente dovremmo investire dovremmo promuoverlo dovremmo lavorare sulla cultura dei giovani fin dalle scuole basilari allora vedevo che il presidente Granelli stava ascoltando con ammirazione anche Francesco Grillo aveva qualcosa da dire ma dobbiamo fermarci qualche istante per la pubblicità torniamo subito dopo riprendiamo questo discorso eccoci tornati in studio 10 e 21 sempre in diretta allora c'era Francesco Grillo voleva dire una cosa poi andiamo da Granelli per sapere per quale motivo ascoltava in maniera così interessata Grillo no però velocissimamente oggi appunto ho scritto un editoriale su messaggeri sul mattino sul turismo e sono assolutamente d'accordo che il turismo è anche un settore innovativo però è la più grossa occasione mancata del paese in particolare nel mondo del mezzogiorno d'Italia nel 1980 quando si faceva riferimento a quelle date prima l'Italia era la prima potenza turistica mondiale oggi siamo al quinto posto mezzogiorno soltanto un numero riesce ad attrarre meno visitatori stranieri delle isole canarie che hanno che sono a 2000 km dall'Europa il mezzogiorno ha 16 siti UNESCO 20 milioni di abitanti ha inventato il concetto di turismo riesce ad attirare meno visitatori stranieri mettendoci dentro anche la Sardegna e l'Abruzzo sono numeri talmente pesanti che mettono persino in discussione la legittimità delle retoriche di destinare il 40% dei fondi PNRR al mezzogiorno perché se non riesco neanche a manutenere la villa di Tiberio a Cafri veramente sono in una situazione un po' imbarazzante sentiamo Granelli perché so che ci deve lasciare che è un appuntamento di lavoro e forse abbiamo il tempo per l'ultima risposta Granelli sì ascoltavo con attenzione come lei ha detto perché quando studiavo alle scuole superiori anche io vengo da un paese turistico facevo il cameriere e mi piaceva tanto trovavo un lavoro che era molto bello per le relazioni molto dignitoso quindi è una bella attività e dietro questo lavoro ci stava comunque un concetto e parliamo sempre di questi anni anni 80 c'era il fatto che noi tutti i giovani davamo più scontato di dover fare la gavetta quindi il fatto di lavorare d'estate il fatto comunque di studiare poi di non avere immediatamente anche a disposizione la professione per cui si era studiato era una cosa scontata per cui ci stava questo percorso dove si facevano attività che erano diverse ma che erano propedeuti che puoi fare meglio quello per cui appunto avevi tu studiato oggi purtroppo questa cosa si è persa ma per cui i giovani oggi hanno diciamo delle aspettative delle propensioni che sono diverse bisogna tornare un po' di immaginare che oggi per poter ottenere un obiettivo un risultato e per avere anche sempre centrale oggi il lavoro occorre anche fare questi percorsi che poi chiaramente sono anche gratificati dai successi che poi ci ottengono perché attraverso la cultura anche un po' appunto del sacrificio e di fare questi passaggi che poi assapori di più e valorizzi meglio quello che poi ti trovi a dover fare quindi chiedo che i grandi oggi ma poi tutti gli imprenditori che hanno fatto questo percorso ne hanno tratto un grande beneficio per la competenza e per la conoscenza che hanno acquisito e per un percorso che io ritengo obbligato e importante ma torno a dire anche gratificante Allora grazie Marco Granelli Presidente di Conf Artigianato so che ci deve lasciare buon lavoro e chiedo a Laura Tecce il Presidente ha parlato di idea diversa dei giovani è un'idea diversa o è un'idea sbagliata il fatto che molti giovani oggi non vogliono fare quelli che un tempo si chiamavano i lavoretti non solo estivi per qualsiasi tipo di necessità ma di fatto fornivano un background poi appunto di sacrificio di conoscenza del mondo del lavoro che costituiva la cosiddetta gavetta a cosa è dovuto? C'è un mutamento culturale di cui dobbiamo essere preoccupati? il mutamento è sociologico sociologico e culturale prima parlavamo durante la pubblicità proprio io e te dei social che hanno rivoluzionato il modo di agire ma anche di pensare delle nuove generazioni e indubbiamente si dà l'illusione che tutto sia semplice tutto sia immediato a portata di click se io vedo un influencer un personaggio televisivo e dico se ce l'ha fatta lei ce la posso fare anch'io perché sui social si vede come dire la parte finale la punta dell'iceberg non si vede la gavetta che anche le persone che diventano personaggi televisivi o influencer fanno e quindi si pensa che sia tutto più semplice fare il lavoretto è degradante fare il lavoretto manuale lo diceva anche prima l'esponente di confartigianato nessuno vuole fare più le scuole professionali vogliono fare tutto il liceo vogliono tutti fare delle carriere però abbiamo l'esempio lampante insomma è un manager di successo Lore Capone è partito dal basso io non voglio citare la mia trasmissione il prevedere di confartigianato è partito facendo il cameriere la mia autopubblicità perché poi tra l'altro la mia trasmissione underdog e tra l'altro ieri è andata molto bene io intervisto persone che come loro imprenditori che sono partiti dal basso figli di contadini addirittura cucinelli stavano in 13 in una casa senza luce senza gas cioè capisci è diventato uno dei più importanti imprenditori nel suo settore del cashmere nel mondo quindi è chiaro che questa visione che danno in parte i social è totalmente alterata e non veritiera però non darei solo la colpa ai social è tutta una società che sta evolvendo verso questa idea del successo a portata di click a portata di mano senza sacrificio senza impegno tutto dovuto un po' questa è colpa anche dei genitori perché dare ai figli come dire la sensazione che sia tutto dovuto e poi però lasciatemi dire una cosa abbiamo con noi prenditore nel settore io ci credo che lui paghi i suoi dipendenti molto mi diceva una paga base di 1.400 1.500 però non è sempre così mi creda e lo sa meglio di me ci sono anche molte situazioni in cui invece i giovani vengono sfruttati e questo non è giusto no no adesso sentiamo una replica sentiamo una replica ho premesso che non ho motivo di non credere che ci siano invece delle strutture serie come la sua che pagano in maniera che adeguata anche perché non potrebbe che non è tutto rose e fiori purtroppo Capone le chiedo una cosa insieme a questa domanda c'è stata un'associazione di categoria che in concomitanza con i famosi messaggini che annunciavano alla fine del reddito di cittadinanza per molti cittadini campani ha segnalato un boom di richieste di lavori stagionali per voi è stato così l'avete notata questa tendenza c'è stato in questo agosto dopo l'abolizione del reddito per molte famiglie anche in Campania un boom di richieste di lavori stagionali o è cambiato poco? No per noi è cambiato pochissimo ripeto che nel settore alberghiero manca proprio la cultura cioè non c'è stata mai una propaganda specifica per far capire ai giovani che si può fare una carriera partendo da fare il cameriere segretario di ricevimento magazziniere portiere facchino di portineria il nostro settore veramente potrebbe essere quell'attività che ti permette di fare una carriera trasversale e quindi molti ragazzi non lo sanno non lo conoscono perché la scuola alberghiera o la cultura turistica non c'è nel nostro paese potremmo essere il paese più importante al mondo per destinazione turistica e siamo al quarto al quinto posto quindi come si fa a invogliare i giovani a venire a lavorare da noi bisogna fargli capire che si inizia come cameriere come ho fatto io per poi crescere fare esperienza e si può arrivare ad avere dei redditi importanti perché il nostro settore ad ogni capo servizio che noi abbiamo dà redditi importanti quindi un capo servizio nostro che può essere un metodo o un responsabile del ristorante un capo ricevimento percepiscono stipendi che vanno dai 2.200 euro netti mese sono stipendi importanti e si può crescere si può arrivare ovviamente a fare il direttore bisogna fare un'altra fila una carriera ma ci si può fare come l'ho fatto io lo possono fare in tanti quindi quello che manca è dare un'informazione a questi giovani che lavorare nel turismo non è fare il cameriere a vita che poi è anche un lavoro dignitoso perché io l'ho fatto per tanti anni ma si può fare una carriera importante si può accrescere le proprie conoscenze si imparano le lingue si diventa più sicuro di se stesso perché ci si confronta tutti i giorni con i clienti e quindi la domanda che vorrei fare a lei dottore è prima di tutto dare più importanza al settore del turismo e la ringrazio che lei stamattina è voluta entrare in materia poche persone e pochi giornalisti affrontano questo tema il nostro paese è un paese di destinazione turistica per quale motivo secondo lei per quale motivo secondo lei è perché fino a qualche anno fa non avevamo neanche il ministero del turismo quindi è un problema di politiche generali che partono ovviamente dal governo il ministero del turismo è stato estinto nel 1980 è stato ripristinato nel 2017 quindi si immagini lei sono passati vent'anni trent'anni dove nessuno si è preoccupato di spingere di promuovere il nostro paese adesso sa perché? perché a Roma i clienti arrivano lo stesso perché a Firenze i clienti arrivano lo stesso non basta e allora stai a vedere che aveva ragione quel ministro tedesco che ha detto se Roma continua così c'è poco futuro ma avremo modo di parlarne perché tra qualche istante parleremo anche di quello che accade nei centri storici delle grandi città sapete però che molte città italiane sono finite sott'acqua ieri altre oggi verranno colpite da nubi fragi per un'estate che sta segnalando la sua fine con una serie di eventi atmosferici che hanno colpito in modo particolare il nord Italia che si stanno spostando con un'allerta buongiorno Paolo Sottocorona che se non sbaglio durerà ancora per 24 ore qual è la situazione? ma sì ancora 24 ore sicuramente di attenzione più che allarme però già oggi è una giornata diversa da ieri infatti se andiamo a vedere le nuvole come vedete ci sono ci sono delle piogge al momento non particolarmente intense ma ancora per oggi qualche zona critica o comunque ripeto degna di attenzione c'è vediamo il complessivo delle piogge previste nelle 24 ore di oggi che danno ancora in parte il nord-est vedete a nord-ovest gialle schiarite o comunque piogge deboli poi c'è il versante tirrenico medio versante tirrenico basso versante tirrenico qui qualche fenomeno intenso ci può essere così come ancora sulle coste fra Veneto e Romagna però sono zone abbastanza isolate nella giornata di domani già si vede un'ulteriore attenuazione di questo maltempo perché abbiamo ancora delle piogge sulle zone di nord-est però anche ampie schiarite al nord così come in Sardegna e in parte in Sicilia i fenomeni sul basso tirreno ancora ci sono ma sono sempre meno intensi al centro piogge deboli localmente moderate quindi molto poco non solo ma arriviamo alla giornata di giovedì in cui sul basso tirreno abbiamo ancora la possibilità di qualche pioggia ma di fenomeni intensi mancano cioè sono esauriti le temperature si stabilizzeranno su valori decisamente più bassi ma data la stagione se le lasciate lì tranquille un pochino risalgono dandogli un po' di tempo una carta diventata inutile quella del disagio ma per far vedere abbiamo vista con colori come dire drammatici queste state tutto verde sostanzialmente ovviamente con queste temperature di disagio non se ne parla proprio abbiamo imparato a conoscere queste state il famigerato indice di Tom l'indice di Tom esatto d'accordo avete visto che su Venezia il tempo era così così avevamo pronto anche un collegamento per parlare della mostra del cinema che domani apre all'ottantesima edizione collegamento che non faremo proprio per il mal tempo quindi Paola per segnalare che purtroppo è tutto collegato ci fermiamo qualche istante e torniamo subito dopo riprendendo il discorso di prima qualche istante torniamo subito è 10.39 ben trovati in studio coffee break estate per quest'ultima parte di trasmissione stavo chiedendo a Gianluca Capone cosa ne pensassi del fatto che nelle grandi città spesso ultimamente la tendenza è quella di fare cassa con le multe con le tasse di soggiorno piuttosto che fare investimenti mirati o semplicemente farsi venire in mente un'idea Laura su come risolvere i problemi lo dico perché ho letto recentemente su Sole 24 Ore un articolo molto interessante che riguarda Venezia cioè l'idea di collocare delle obbligazioni per finanziare lo sviluppo della città è un progetto che riguarda la sostenibilità forse riusciamo anche a vedere questo articolo che è di qualche giorno fa ma spiega bene come a volte farsi venire in mente un'idea che può essere più o meno geniale come questa può sostenere tutti quei progetti per i quali spesso non ci sono i fondi o per i quali si cercano fondi in altro modo una delle cose che affossa il turismo nelle città di cui si lamentava Gianluca Capone può dipendere anche da questo cioè che si cerca di fare cassa con mezzi più semplici ecco l'articolo intanto su Venezia allora posso intervenire sì sì ho chiesto a lei ecco sento un po' lontano mi perdoni allora è proprio vero ne è dimostrazione Roma io ho la fortuna e il piacere di essere il manager di un importante albergo uno dei più importanti di Roma il Pirando Terriz con un marchio ovviamente internazionale che è Radisson Blu ebbene noi dal dal 2022 a quest'anno abbiamo avuto un incremento come tutti gli alberghi romani intorno al 10-15% rispetto al 2022 e quindi Roma è partita molto bene anche grazie a delle attività che sono state promosse dal sindaco dall'assessore dal turismo del comune quindi concerti attività eventi che hanno portato sicuramente domanda e presenza a Roma dall'altra parte quindi dopo un anno che è stato due anni duri durissimi per il nostro settore dovuti alla pandemia abbiamo finalmente avuto un anno di ripresa e tutti stavamo risollevandoci cosa è successo con la giunta del 17 luglio con la seduta della giunta comunale del 17 luglio 2023 che il signor sindaco Gualtieri ha deliberato senza sentire le associazioni di categoria io faccio parte di Federalberghi che è Confcommercio ma c'è Confindustria ovviamente Confederturismo e Confesercenti con Assotet bene senza il bisogno di sentire il nostro parere ha portato la tassa di soggiorno di Roma ad essere la tassa di soggiorno più alta in Europa quindi da un lato abbiamo promosso di quanti soldi stiamo parlando quantifichiamo eh bene i 5 stelle da 7 euro che pagavano sono passati a 10 euro dal primo ottobre 2023 i 4 stelle da 6 euro che pagavano la tassa di soggiorno è aumentata a 7,50 euro i 4 stelle anche io padre ecco qua l'andazzo è chiaro l'andazzo è chiaro allora questo fa il paio con una notizia che stavamo commentando è un caso ma ne stavamo parlando poco fa il fatto che a Londra entra in vigore la famosa pollution charge la tassa che per entrare in centro costa 28 sterline è la tendenza un po' in tutte le grandi città ma anche nelle piccole sembra quasi che non avere una mini ZTL sia quasi un'offesa tant'è che dire un paesino dell'oraio romano come Santa Marinella ha istituito a sua volta una mini ZTL sono provvedimenti che vanno molto di moda ma allora poi mentre parlavo a Capone ho visto che stavate confabulando ci siamo agitati ci siamo agitati perché si è stato nominato il sindaco di Roma perché noi crediamo entrambe almeno io non posso parlare del collega però ne parlavamo quindi mi permetto di farlo io credo che da persona che vive a Roma da anni e anni credo che Gualtieri sia il peggior sindaco mai esistito sulla faccia della terra non è non volevamo non volevamo non volevamo parlare del sindaco di Roma era semplicemente un discorso sono autorizzata a esprimere delle opinioni tanto più che io vivo a Roma non posso dire per motivi di privacy dove ma è una zona super 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 centrale e sono invasa da turisti sono invasa questo lo voglio dire al Capone il problema sa qual è e mi creda che io lo vivo in prima persona sono forse una delle poche 10 persone abitiamo in centro perché il resto sono case vacanze quindi più che aumentare la tassa di soggiorno facciamo una legge per regolamentare le case vacanze perché in centro è dosta notizia non esistono più residenti non esistono più persone diciamo che abitano e vivono esistono solo intere palazzine adibite a case vacanze senza controlli senza come dire le garanzie che date voi perché comunque voi siete una struttura gli alberghi sono delle strutture ricettive che pagano le tasse va bene adesso non volevo tramutare questa pagina in un attacco al sindaco era semplicemente per dire che la tendenza alle grandi capitali europee purtroppo è questa con buone intenzioni ma spesso copiata in maniera diversa non declinata sul territorio su tutti i fronti quello che dici è vero però bisogna mettere le cose in prospettiva Londra ha una questo è un punto credo fondamentale a una rete metropolitana che tra l'altro è disponibile dalla seconda guerra mondiale e quindi sostanzialmente i manager i professori universitari utilizzano la metropolitana Roma aveva 60 km di rete metropolitana quando io facevo la LUIS qui negli anni negli anni 90 oggi 60 km di rete metropolitana contemporaneamente Shanghai proprio dall'altra parte del mondo ha costruito mille km di rete metropolitana soprattutto rischi la vita ogni giorno non credo onestamente che la differenza la faccia i 6 euro che diventano 9 euro che possono dare fastidio a Roma il turismo di qualità non può più venire per una questione che non si può non vedere una serie di fattori concomitanti che scoraggiano l'indecoro urbano dilagante quindi da questo punto di vista veramente c'è stata la reazione eppure però abbiamo il record dei turisti da ancora rispetto ai dati prima del covid se non sbaglio sono turisti di qualità sempre sempre migliore sta scendendo la qualità del turismo che arriva in Italia secondo lei a Roma sicuro il problema è che è vero se questi soldi della tassa di soggiorno quindi questo incremento che comunque i 5 stelle arrivano a pagare 10 euro i turisti che arrivano in Italia al giorno per presenza per 10 notte consecutive i 4 stelle 7 euro e 50 per 10 notte consecutive per persona quindi se una famiglia sono in 3 pagano 7,14,21 22,23 euro al giorno di tassa di soggiorno che vengono versate all'albergo e l'albergo dovrà versare dal comune entro il mese successivo bene se questi soldi venissero investiti dal comune nel rifare le strade in una certa maniera nel togliere la spazzatura che ancora è rimasta così da due anni nell'evitare che ci siano le pantegane che girano per il cento di euro nel ripulire le nostre strade nel rendere i servizi agevoli ai nostri turisti non ci sono autobus non ci sono taxi non ci sono metro che funzionano ecco se i soldi che noi paghiamo i turisti pagano a noi venissero investiti dal sindaco non per tappare i propri buchi di bilancio ma per favorire un turismo accessibile e funzionale nessuno direbbe niente il problema è che i turisti vengono ma non tornano più perché si trovano poi la sporcizia si trovano a dover essere scippati si trovano a non avere il taxi si trovano in mezzo al niente siamo nel Biafra ecco nel 2023 Roma è Biafra ha cambiato quindi anche lei pensa che il sindaco Gualtieri no non torniamo sul sindaco Gualtieri è un discorso generale sull'Italia e su quanto può essere attattivo un paese che però ha limitato negli ultimi tempi sicuramente gli investimenti sul fronte del turismo perché come segnalava Capone abbiamo forse vissuto un po' di rendita negli ultimi anni con i turisti che venivano comunque perché vengono per vedere le bellezze che noi abbiamo ma forse l'Italia è un paese caro e i servizi non sempre sono all'altezza io sono toscana quindi parlo anche lì con condizioni di causa la Toscana è una regione carissima ma non solo la Puglia quest'anno è stata carissima ma in generale in Italia qualche ministro potrebbe risponderti che la qualità si paga però un piccolo particolare all'interno di questo paese ci sono due regioni province autonome da sottolineare Trento e Bolzano che sono dei benchmark sono la superpotenza turistica europea in questo momento quindi all'interno dello stesso paese vincoli legislativi simili loro riescono a fare delle cose straordinarie il discorso è lungo ma bisognerebbe andare semplicemente a imitare quello che fanno loro va bene tra poco torneremo a parlare degli argomenti del giorno vedo già Francesco Magnani collegato con noi abbiamo noi abbiamo cominciato con la manovra per poi inoltrarci un discorso che ci ha portato dal lavoro alla situazione romana ma comunque Francesco insomma i temi della manovra immagino siano in primo piano anche da voi l'area che tira tra qualche minuto buongiorno senza altro anche se mi preme annunciare a te e a chi ci segue che alle 12 si collegherà con noi uno dei protagonisti di questo scorcio di agosto sto parlando di Don Maurizio Patriciello il sacerdote del Parco Verde di Caivano teatro di una situazione brutale di violenza di gruppo ai danni di una bimba aveva chiesto nei giorni scorsi l'intervento di Giorgia Meloni e ieri Giorgia Meloni ha detto che andrà in quella periferia così degradata del napoletano e allora parleremo con lui chiederemo a lui che cosa si aspetta dal governo che ha promesso bonifica e sicurezza e con lui e con i nostri ospiti ragioneremo anche di che cosa sono oggi i rapporti tra uomo e donna anche nelle nuove generazioni c'è lo stupro di gruppo anche a Palermo c'è la proposta di vietare la pornografia sui minori dunque una grande pagina dedicata a questi temi sociali ovviamente parleremo di manovra della relazione tutta austerità e rigore di Giorgia Meloni saranno d'accordo gli alleati che si trovano non solo davanti al messaggio non si può fare tutto ma anche davanti al messaggio che quel poco che si può fare sarà deciso a Palazzo Chigi con noi Sandro Iacometti di Libero Goffredo Buccini firma prestigiosissima del Corriere della Sera Stefano Candiani della Lega Pierfrancesco Maiorino e poi quei tanti ospiti che a cui ho fatto riferimento poco fa a partire appunto da Don Patriciello restate con noi arriviamo tra poco sicuramente questa è una delle notizie che ieri ha fatto molto scalpore insomma la Premier si è presa un bel impegno Laura nel senso non solo andare nei luoghi dove quegli stupri sono avvenuti ma la promessa di risanare ristorare tutta l'area che è abbandonata e che era diventata di fatto una piazza di spaccio per molti anni esatto quindi non solo una passerella è un segnale ma anche qualcosa di concreto e io credo che Giorgia Meloni in questo senso lo farà una donna una madre capisce che la situazione sta diventando veramente ingestibile per le donne queste non sono neanche donne sono bambine 12 anni si è bambine ragazzine e tra l'altro una vicenda che andava avanti chissà da quanto tempo devo leggere una notizia che appena è arrivata abbiamo ancora qualche qualche secondo è un agi è un agi importante però il Vaticano smentisce dopo l'attacco del presidente ucraino Zelensky di aver voluto esaltare in qualsiasi modo l'imperialismo russo sapete che tra le tante cose dette da Volodymyr Zelensky tra cui anche alcune molto positive sull'apertura diplomatica per la fine della guerra in Crimea per esempio un attacco al Papa c'è stato un attacco al Papa per un discorso fatto giorni fa in cui veniva nominata e richiamata la figura della grande madre russia interpretata dagli ucraini appunto come esaltazione dell'imperialismo dunque il Vaticano mette insomma un punto perlomeno a parole a questa vicenda tutti argomenti di cui allora torneremo a parlare tra pochissimo ringrazio i nostri ospiti Gianluca Capone collegato con noi grazie per averci spiegato qualcosa in più sul mercato del lavoro in questo settore Laura Tecce grazie a te in bocca al lupo anche per i prossimi progetti grazie a Francesco Grillo ti leggiamo sul messaggero ma leggiamo anche le vostre idee per quanto riguarda Vision e il vostro think tank è tutto ci vediamo domani se vorrete alle 9.40 sempre qui su La Sette Coffee Break Estate